Signori e signori, benvenuti, siamo di nuovo a Natale e come tutti i Natali ci ritroviamo qui insieme per festeggiare le feste ormai vicine con il concerto natalizio offerto dalla nostra banda. E' sempre un momento bello, un momento di raccoglimento, un momento sereno da trascorrere insieme, anche perché la musica, l'abbiamo già detto, a questo grande potere di unire tutti quanti con il suo ritmo, con i suoi suoni e renderci felici magari un po' sereni e spensierati per un'oretta, un paio d'ore, la durata del concerto. Questo appunto è lo scopo che tutti gli anni, ecco, la nostra banda tende ad offrire al proprio Paese. Prima di iniziare vorrei chiamare qui vicino a me il nostro Presidente, Andrea Ortega, che anche lui vuole incoraggiare i saluti e gli auguri, poi lo farà anche alla fine, a tutti quanti voi. Eccolo qui. Ci chiediamo con una buona parla a Andrea Ortega, il nostro Presidente. Grazie, grazie a tutti. Benvenuti per questa serata di musica. In realtà è una continuazione che oggi abbiamo già suonato con la Yamabanda, l'orchestra giovanile di Portacomano. Oggi è stata rappresentata la storia di Pinocchio con i narratori ed ha avuto molto successo, devo dire, perché è piaciuta. È piaciuta chi suonava ed è piaciuta al pubblico. Quindi la riproporremo sicuramente in altri momenti, in altre situazioni e alcuni di voi sono che hanno assistito perché vedo delle facce già viste prima, già conosciute. Quindi una bella cosa. Mi piacerebbe però un attimo che si alzassero quelli della banda che hanno meno di 18 anni di età. per i più piccoli, per i più piccoli. no, specificati i piccoli perché non è che non è che non è che non è che non è abbastanza, se mi siano avuto da niente. per i più piccoli. Ecco, questo è il futuro della banda. Quest'oggi, come riggio, si sono già esibiti, con la Yamaha, orchestrando. Oggi, stasera, si esibiscono con la banda, diciamo, dei grandi. quindi grazie a voi ragazzi perché siete il futuro della nostra associazione quindi un forte applauso a voi bene, detto questo io ringrazio tanti amici che ci sono qui questa sera voglio ringraziare il gruppo Alpini che ci sostiene, ci aiuta e grazie a loro abbiamo potuto, eccoli lì al fondo che stanno tanto preparando il riflesso per la serata che hanno collaborato anche per preparare la sala quindi perché vedete ci sono i teli da mettere a terra ci sono tanti lavori da fare loro ci hanno aiutato insieme ad altre persone che vedo sparse un po' su e giù e a preparare tutta questa sala e quest'anno abbiamo anche questa bella scenografia quindi che ci fa da contorno al nostro concerto ringrazio anche gli amici dell'Aism di Asti c'è il Presidente, no è l'ex Presidente ma che sei sempre un po' a centrafunzione o no? con loro abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia l'Aism di l'Associazione Italiana della Sclerosi Multipla e con loro collaboriamo con iniziative e speriamo nell'anno nuovo abbiamo già un po' di idee quindi vedremo se riusciremo poi a portarla avanti quindi grazie della vostra presenza grazie alla nostra mascotte Giampi che sei qua con noi grazie per se ci sei e per seguirci con attenzione e poi grazie a tutte quelle persone che hanno collaborato sono tantissime, non le leggo tutte ma in particolare le cuoche che hanno preparato l'altro giorno 2.000, pensate 2.000 sono caritini natalizi i caritini li conosciamo tutti questa volta li hanno fatti in versione natalizia se volete potete poi con una piccola offerta comprarli uscendo dalla palestra quindi grazie anche a tutte voi che ci sostenete e ci aiutate e con questo diciamo la banda vedete continua a procedere la bella notizia che nell'anno nuovo inizieranno penso maggio, giugno grosso modo, pensavamo prima ma andremo grosso modo verso l'estate però inizieremo i lavori di ristrutturazione della manica di Casa Pozzi che è ancora da ristrutturare nella quale intendiamo realizzare tre aule insonorizzate ci servono fortemente perché vedete i ragazzi stanno crescendo abbiamo tantissime attività soprattutto con le scuole ecco con le scuole venerdì ci siamo esibiti si investeva sempre a Marco Scassan se facciamo un applauso a grande Marco ci sono esibite le scuole quindi in sei classi hanno costituito delle orchestre delle orchestre scolastiche ed è un progetto innovativo molto bello che sta funzionando e quindi ci servono degli spazi per poter fare tutte queste cose l'ampliamento va al luogo il comune ha destinato dei fondi insieme al comune ci sono le risorse della fondazione Cereasti Cere Torino nonché anche di molti di voi perché soltanto con i privati quindi con l'aiuto di alcune persone che vedo anche tra il pubblico in cui va il mio ringraziamento sono stati raccolti circa 14.000 euro quindi una cifra veramente considerevole ma che ci permette veramente di fare un intervento importante e che credo che sarà a vantaggio delle future generazioni quindi l'applauso questa volta fatevelo a voi io non ci ho parlato tanto vi auguro soltanto più un caro buon Natale a tutti buone feste e chiamo qui a parlare con un piccolo intervento il nostro sindaco Walter Perini grazie auguro prego Walter allora visto che abbiamo parlato tanto e non siamo qui per sentire parlare io auguro a tutti buone feste ciao arrivederci grazie 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 grazie